allora questo è un video che avrei potuto tranquillamente registrare con tutta calma e tranquillità domani mattina ma ci credete che se non lo avessi registrato oggi stanotte non ci avrei dormito non so che ora è perché l'orologio l'ho lasciato di là ma sicuramente è luna passata e probabilmente lo vedrete direttamente questa sera perché lo registro adesso e lo pubblico adesso mi devo togliere il pensiero detto questo bentornati e ben ritrovati allora vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video per supportare semplicemente i miei contenuti calcistici vi ricordo che è gratis iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa ho due canali di calcio e anche un canale youtube extra calcio lascio i canali in infobox durante il video compariranno qui ovviamente atalanta roma finita sul punteggio di 3 a 1 vado a fare le pagelle vado a giudicare ogni singolo calciatore della partita anche quelli in questo caso della talanta e parto proprio da loro perché giocavano in casa dopo mi soffermerò sicuramente un po di più sui calciatori della mia squadra del cuore se vi va se vi fa piacere fate il vostro pagellone qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate dei singoli ma anche del collettivo alla fine del risultato che ne è uscito fuori come giudicate anche l'atalanta e come giudicate ovviamente la roma per la partita che abbiamo visto allora a sportiello do 5 e mezzo ovviamente sapete che io comunque cerco sempre di dare i voti anche agli avversari in maniera il più nella maniera più oggettiva possibile e do 5 e mezzo perché secondo me è stato lento sul gol di fortuna a parte che tanto non è servito a niente perché comunque abbiamo perso però è stato lento sul gol di pellegrini e anche da rivedere sicuramente la situazione che porta al palo da calcio di punizione proprio di lorenzo pellegrini dopo il gol no e probabilmente insomma avrebbe potuto fare qualcosa in più seppur pellegrini poi quella punizione sicuramente l'ha calciata bene ma si è stampata sul palo l'ennesimo il trentesimo della stagione della s roma giusto per dire dei numeri che possono sembrare insignificante ma 30 pali in una stagione sono sempre 30 pali e ok a toloi do 7 ragazzi toloi io non ricordo una prestazione brutta ma magari sarò influenzato da questa partita dall'ennesimo risultato positivo per l'atalanta ma io non mi ricordo contro di noi una partita brutta fatta da toloi è un qualcosa di pazzesco non che sia un calciatore scarso perché comunque no quando l'atalanta c'è è sempre un calciatore importantissimo per questa per questa rosa per questa squadra ma fa anche il gol che alla fine ragazzi comunque chiude quelli che so i conti di un match che ha visto meritatamente vincere loro perché noi e poi di che non meritavano di vincere la sta partita ne ho parlato nel mio post partita a livello di atteggiamenti a livello di tattica a livello di tutto voto 7 per toloi jim city e palomino li metto sullo stesso piano poi ironia della sorte no per come subentra palomino per come poi no colpo detesta e per come arriva il il gol ma non è solo questo per entrambi no non è solo questo per palomino è comunque un calciatore d'esperienza sempre attento un calciatore che fa sempre la differenza alla dea anche quando subentra e dò 6 e mezzo sia a lui sia a jim city jim city che si fa male in uno scontro fortuito con tammi abram ma fino a quel momento diciamo c'è la verità comunque c'era stata un'opera decontenimento da parte un po di tutti i difensori dell'atalanta nei confronti dei nostri attaccanti effettivi e se ho dato 7 a toloi se ho dato 6 e mezzo a jim city se ho dato 6 e mezzo a palomino ho deciso di dare 7 e mezzo a scalvini qualcuno mi dirà che sicuramente sono stato esagerato ma ragazzi è un giocatore a tutto campo non è riduttivo parlare di difensore in difensore in centrocampista in attaccante lo abbiamo visto il riassunto della partita della roma paradossalmente parlando è proprio l'occasione o meglio quella non è un'occasione quella è la capacità da parte di scalvini di pressare in quel modo tammi abram vi siete resi conto un difensore un difensore del ruolo alla fine a che zona del campo era andato a pressare un calciatore che aveva appena ricevuto la palla come gliela tolta come gliela sradicata come ha servito zapata che a sua volta ha servito pasalic per il gol dell'1 a 0 ed è per questo che a scalvini che è più giovane di tutti credo dell'atalanta o quasi che che sta facendo tutta la differenza del mondo mi ricordo che venni criticato un po di tempo fa perché parlai di scalvini come un futuro fenomeno ma forse non vi state veramente rendendo conto di che cosa la nazionale italiana ha per le mani e vado avanti zappacosta ha avuto per me da sei e mezzo perché per quanto poi non abbia spinto tantissimo ma mi viene in mente una situazione di recupero su sol bachen se non vado errato ha fatto una partita attenta ha fatto una partita comunque di sacrificio e magari ce l'avessi ancora a roma un calciatore del genere secondo me sarebbe veramente utilissimo alla causa infortuni a parte svaroschi a parte uno che si scoccia spesso però quando c'è fisicamente ragazzi è un calciatore veramente secondo me incredibile per questo lo premio col sei e mezzo a deron ed ederson ragazzi gli do un sei e mezzo per entrambi e deron ragazzi è un calciatore pazzesco ma anche ederson in fase di depressing l'intensità che entrambi hanno messo nel centrocampo dell'atalanta ma non è solo una questione di intensità è proprio una questione dei ritmi è una questione anche del giro palla è una questione di tutto quello che sono riusciti a fare questa sera per per l'atalanta quindi è messo da sei e mezzo entrambi bene credo che sia forse il calciatore che merita il voto più basso tra tutti e poi fatemi sapere voi che ne pensate qua sotto nei commenti ed è una sufficienza un po senza infamia e senza lode fa un po il compitino rispetto agli altri magari è una mia percezione sbagliata ma i voti esistono per questo poi ognuno si fa una sua idea poi là davanti ragazzi solo voti alti in realtà eh mo ci arriviamo prima partiamo da copmeiners a cui ho deciso di dare 7 è un giocatore comunque importantissimo per la dea e lo abbiamo visto è un giocatore dalle qualità di inserimento pazzesche ma è riduttivo parlare di copmeiners solo come un calciatore che sa inserirsi perché da quantità da qualità da praticamente tutto e segna pure che vedevo di voto 7 idem per pasalic lo metto sullo stesso identico piano insegnava da 100 10 giorni 120 giorni come te poi sbaglia e il gol che fa di pregevole fattura ovviamente anche l'assist che gli fa duvan zapata se non mi ricordo male sì l'ho detto prima in occasione dell'1 a 0 ma per far quel gol devi avere delle qualità importanti perché per come ha colpito la palla per come gli è arrivata per come l'ha colpita per come ha realizzato per come purtroppo mi ha trasformato pasalic se merita il 7 ma duvan zapata secondo me se merita 8 non solo per l'assist ma per la partita che fa ha fatto girare la testa tutta la nostra difesa non lo abbiamo preso una volta dal punto di vista fisico regà quando sta in forma è un calciatore imprendibile e poi mi sono meravigliato all'inizio che dico sta faggio cazzapata che inseregge in piedi e ha preferito lasciare oilund in panchina dico magari lo vorrà tenere fresco perché poi quando oilund entra entra farà una differenza pazzesca no mi sono reso conto dopo il motivo gasperini mette in campo chi sta meglio ragazzi e se è visto se è visto perché veramente io gli odotto non mi ricordo se l'ho detto assolutamente migliore in campo a mani basse ripeto non ci ha fatto strusciare una palla perché ogni volta che ce l'aveva lui comandava lui ragazzi qualcosa di pazzesco e se gasperini dal punto di vista tattico dal punto di vista degli atteggiamenti dal punto di vista del pressing dal punto di vista dell'aggressività che fa una partita del genere io non posso che dà 8 a gasperini onore e merito a un allenatore che comunque ha tirato fuori il meglio da un atalanta che quest'anno tra tanti alti e pari tra pochi alti forse qualche basso in più alla fine contro di noi ha fatto la super prestazione allora rui patrisio sto a guardare quanto sta a durare sto video non lo vorrei fa dura 25 minuti rui patrisio voto 4 ragazzi è ovvio che io devo giudicare ovviamente la papera l'errore non voglio e l'ho già detto in altre in altri contenuti in altre situazioni non voglio puntare il dito solamente contro lui patrisio perché tante volte ci ha salvato ha fatto dei miracoli però stasera ha fatto una cosa che che tutti non volevamo ovviamente vedere quando un portiere spapera è sempre un qualcosa che ti fa che ti fa arrabbiare nella partita singola questo questo è stato voto 4 a mancini ho deciso di dare 5 e mezzo e in realtà è uno dei voti più alti che ho dato alla difesa della roma gli ho 5 e mezzo più che alto perché è stato in campo anche con un giramento di testa ed è stato forse almeno peggio tra tra tutti quindi per quello gli ho dato 5 e mezzo subentra di bala a mancini e a di bala gli ho 6 ragazzi non è che stava a mezzo servizio stava un quarto di servizio se una volta la partita a mezzo servizio della risolve non è che puoi sempre pretendere che sia lui a risolvere no a sbrogliare il bandolo della matassa gli ho sufficiente a di bala perché secondo me stasera più di quello proprio non poteva non poteva fare ai bagnese gli ho 5 perché ragazzi tra zapata e tra i giri palla dell'atalanta e tra prova anticipa i carciatori e non ha vista mezza di palla stasera io i bagnese l'ho visto veramente in giornata no poi sarà che mi ha influenzato fabio durante la partita che ogni piccola cosa che ne sbagliato che faceva i bagnese ci teneva a sbraità e a sottolinearla anche i bagnese ragazzi in tante situazioni è stato veramente un grandissimo difensore in tantissime partite ci ha fatto veramente tanto la differenza semplicemente probabilmente stasera non era in serata però va sottolineata quella che la prestazione di questa partita io sto a giudica sta partita non le altre i bagnese da 5. Llorente per me guarda alla fine ho deciso per un 5 e mezzo però a tratti era da 5 a tratti era da 5 perché vabbè sempre non solo su zapata e anche su altri calciatori in alcune circostanze l'ho visto anche in ritardo ma in altre però è stato forse verso la parte iniziale della partita è stato pulito preciso e perfetto forse fino ai primi 20 25 minuti se non ricordo male poi la prestazione è andata a scendere e alla fine di tutto ho deciso di dargli 5 e mezzo diciamo che ecco l'impatto che ci ha avuto Llorente da quando è arrivato alla Roma è stato comunque positivo poi ecco verso la fine della partita però qualche qualche situazione anche situazioni sfortunate quello che volete però ecco Llorente 5 e mezzo a Celic Selic Selic chiamatelo come pare ognuno lo chiama come meglio crede ho deciso di dare 5 e mezzo non ho voluto esagerare a ribasso perché comunque a tratti mi è sembrato anche abbastanza voglioso propositivo anche abbastanza attento no però poi mette tanti palloni in mezzo ma tutto fumo e niente arrosto ecco bove 5 e mezzo lo metto sullo stesso piano degli altri 5 e mezzo qualche piccola imprecisione qualche palla persa un paio dei palloni persi anche da lui ma in generale stasera la Roma rica era proprio affannata secondo me è proprio il riassunto di quelli che so quasi tutti i calciatori che sono scesi in campo Matic quando gli subentra ci mette quel qualcosa in più di esperienza cerca di riportare un po' di ordine a tratti ci stava anche riuscendo ma poi ovviamente regà la prestazione i gol subiti una cosa in altra hanno indirizzato quello che è quello che è stato il tutto però la sufficienza secondo me Matic è uno dei pochi che se la merita insieme a Paolo Di Bala Cristante lo metto bene o male a livello dei bove che so sti rumori stanno ad entrare i ladri in casa ai due di notte l'uno e mezza 5 e mezzo anche a Cristante tra un passaggio all'amico immaginario ritornato a vedere amici immaginari in mezzo al campo oggi sicuramente non è stata una prestazione sufficiente da parte di Cristante seppur non ha fatto tutti questi grandissimi danni e vi preannuncio che per Spinazzola e del Sharawi faccio lo stesso discorso dei Matic e Di Bala tutti i subentrati ho deciso di dare la sufficienza perché un minimo ho visto un po' di svolta quando sono entrati loro i titolari perlomeno del momento però solitamente sono tutti i titolari anche il Sharawi ormai io lo considero praticamente il titolare hanno messo quel qualcosa in più in campo rispetto a quelli che sono usciti Zaleski ho deciso di dargli la sufficienza ma forse era più da 5 e mezzo se merita mezzo punto in più secondo me per quell'azione del primo tempo in cui ubriaca non mi ricordo chi dell'Atalanta forse erano anche due calciatori con quella finta e controfinta e gira e te rigira entri esci entri esci poi mette sta palla in mezzo che viene però disimpegnata dal difensore dell'Atalanta sono queste le occasioni che voglio vedere all'esterno ragazzi sono queste le occasioni che voglio vedere se riesce a ritagliate almeno una volta a partita perché poi potresti che era qualcosa di pesante per quello deciso di dare mezzo mezzo punto in più a Zaleski probabilmente sì pure lui avrebbe meritato l'insufficienza però quell'azione mi è piaciuta ci tenevo a sottolinearlo sul back per me è da 5 e mezzo 5 e mezzo perché poi se andiamo a guardare ragazzi sì un paio di accelerate una volta Zappagosta che lo recupera altre situazioni però anche lui tutto fumo e niente arrosto mi potevo aspettare qualcosina in più visto che non sia un titolare visto che c'è la grossa ghiotta possibilità di dimostrare di essere all'altezza dei titolari di diventare anche te un titolare a pieno regime e invece un minimo diciamo che va deluso pellegrini è assolutamente da 6 e mezzo secondo me forse anche qualcosa in più però abbiamo perso 3 a 1 quindi più di quello non mi posso permettere assolutamente di dargli però segna prende il palo regà unici due tirino specchio dalla porta dell'Atalanta a momenti famo duco avremmo perso uguale perché ne abbiamo presidere però capite bene che tutto passa dai piedi dei pellegrini noi questo è un aspetto dan capitano in realtà che si prende la squadra sulle spalle e che la prova trascina e questo è quello che ha fatto stasera quando c'è da criticarlo sono il primo a criticarlo ma quando c'è da elogiarlo sono il primo a farlo abraham a voto 5 pesa non solo il fatto che a livello offensivo è stato particolarmente sterile poi per carità si sarà sacrificato tutto quello che volete però perde quel pallone sul pressing dei scalvini che non ti puoi permettere di perdere perché poi la partita si indirizza vai 1 a 0 per loro e devi cercare di recuperarla si mette subito in salita da abraham mi aspetto che butta l'alla a fallo laterale via appoggia la colpita e butta a fallo laterale fa levasto pallone dai piedi 5 e abelotti invece chiedo 6 e mezzo perché fa l'assist per i gol dei pellegrini l'ho visto un po più cattivo l'ho visto un po più voglioso in termini fantacalcistici lui porta bonus e abraham no quindi chi fa bonus ha sempre ragione il mio modo di vedere la prestazione di abelotti è stata migliore rispetto a quella di abraham poi non voglio nulla toglia ad abraham tra tanti bassi e qualche alto però è un nostro calciatore e io mi fido anche di lui ovviamente e a murigno chiedo 5 seppur con tutte le attenuanti del caso giocatori scocciati decimati 120 minuti della partita di coppa ha messo in campo quello che poteva mettere ha fatto rifiatà chi poteva o doveva fare rifiatà e poi ragazzi la partita si è messa così però il 5 io lo do perché secondo me visto quel pressing dell'Atalanta visto quel modo di giocare loro forse dovevamo cercare un'alternativa del gioco non lanciare sta palla nel nel vuoto più totale no se continuavano a lanciare perché murigno gli diceva fate così avrei preferito un altro tipo di atteggiamento seppur poi capisco che nel giropalla non riuscivamo mai ad entrare quindi se non fai quello non fai quella che devo aumentare però ecco 5 a murigno perché quando perdi non è che perde solo la squadra perde pure l'allenatore me ne posso andare a dormire mi sono levato sto peso perché per me era veramente un peso ci tenevo a parlarne e se vi vediamo domani con altri contenuti ciao buonanotte grazie a tutti